Un posto al sole, prossime puntate, Viola rivelare al marito di amare Damiano. L'appuntamento con le prossime puntate di Un posto al sole potrebbe essere caratterizzato dall'ennesima presa di posizione da parte di Viola. Circa la sua delicata situazione sentimentale che la vede divisa tra il marito e Damiano, video. I due coniugi hanno scelto di provare a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio ma. Nel corso dei nuovi episodi di questa fortunatissima stagione, si ritroveranno ad affrontare l'ennesimo momento di crisi, dovuto alla presenza di Damiano. Nel dettaglio, le nuove puntate di Un posto al sole saranno caratterizzate dalla scelta di Viola di lasciarsi alle spalle l'infatuazione per Damiano e gettarsi di nuovo a capofitto nella sua relazione con Eugenio. I due coniugi, infatti, decideranno di dare una seconda chance al loro matrimonio dopo la crisi che hanno vissuto nel corso dell'ultimo periodo e in tal modo provare a rimettere insieme i cocci di questa storia. Una scelta che ha spiazzato i familiari della coppia, consapevoli del fatto che la crisi di Viola fosse decisamente molto forte e che la donna si era resa conto di provare un sentimento nei confronti di Damiano. La guardia del corpo che venne affidata a Viola aveva saputo far breccia nel suo cuore ma nonostante questo sentimento, Viola ha scelto di provare a dare una seconda chance al suo matrimonio. Una decisione che, tuttavia, l'insegnante potrebbe rimettere in discussione nel corso delle prossime puntate di Un posto al sole destinate all'ex Esprime Time di Rai 3. A quanto pare, infatti, Viola si ritroverà a vivere un nuovo momento di crisi dopo un incontro inaspettato con il poliziotto che le aveva rapito il cuore. E, a quel punto, la situazione per Viola potrebbe assumere una piega del tutto inaspettata, non si esclude. Infatti, che la donna possa rendersi conto di non provare più un sentimento nei confronti del marito e, a quel punto, mettere la parola fine al suo matrimonio. Le nuove puntate di Un posto al sole in onda durante il mese di aprile, quindi, potrebbero essere decisive per la coppia Viola e Eugenio. La donna potrebbe rendersi conto che è ormai del tutto inutile portare avanti con fatica questo matrimonio, dato che il suo cuore apparterrebbe ancora a Damiano. Insomma, tra i due volti della SO potrebbe riaccendersi la fiamma della passione e non si esclude che nel caso in cui dovessero uscire allo scoperto. Rosa potrebbe non gradire questa relazione tra il suo ex e la figlia di Ornella. Grazie. 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 Grazie.